Andrea Nicole ha preso in giro la redazione Si prementra e passiamo la matta insieme Sono volate, offese, shock Sei una disonesta A me tu non sei mai piaciuta Tu sei l'esempio di una persona non per bene Sei fasulla, fasulla Ciao scapati di casa Io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video Dedicato a uomini e donne Andrea Nicole ha preso in giro la redazione Sono volate, offese, shock Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre Vi ricordo se ancora non l'avete fatto Di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti E di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte Le notifiche relative video che pubblico Tutti i giorni ho quasi qui Sul mio canale Così da rimanere sempre aggiornati Sul gossip, sul trash Ed ovviamente anche su uomini e donne Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram Dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok Dove sono sempre Fabrizio Valerio Ah e ricorda Si proprio tu che stai guardando questo video Cos'è che devi mettere se sei in mezzo a un sacco di gente? Ti devi mettere la mascherina Finalmente ci siamo ragazzi Dopo giorni, mesi e anni Torniamo a parlare del trono più discusso della tv italiana Si torniamo a parlare di uomini e donne E credetemi che questa sarà una puntata piena Zeppe di cose che devo raccontarvi Aiuto Oh mio dio sono super emozionate E quando dico aiuto intendo dire che si avete letto molto bene il titolo di questo video Oggi parleremo della scelta super super shock Scelta tra virgolette ovviamente Di Andrea Nicole Si lei insomma ha fatto la sua scelta Ma diciamo che sono successe veramente tante e tante cose Forse anche troppe E non so da dove iniziare Quel che so però è che sicuramente dobbiamo partire con il nostro calendario Ce la faccio a prenderlo dell'avvento Ecco qua Se non mi viene qualche attacco di cosa Allora oggi 16 dicembre Apriamo insieme la casellina Vediamo che ci mangiamo oggi Non lo so Oh che buona Mamma mia Oggi il menù prevede il Kinder Mini Quindi insomma la barretta normalissima Momento ASMR per voi Che ve lo dico a fare Follettine e follettine Molto bene Fatto questo nostro momento calendario dell'avvento Beh intanto siamo a metà dicembre ragazzi E aiuto manca pochissimo a Natale Quindi non lo so ragazzi Spero di fare più video possibili in questo periodo Ma a parte questo A parte i video che dovrò fare Andiamo avanti Perché cosa succede? È da più o meno due settimane Era forse il 30 novembre Quando effettivamente c'è stata la registrazione Di questa scelta no? Della scelta di Andrea Nicole Che però ha subito inizialmente Fatto largamente discutere Infatti io ho letto tante tante anticipazioni Parole grosse che volavano Insulti per lei e per la sua scelta Perché sì ragazzi Ve lo dico subito Lei ha scelto Ciprian Ve lo dico ovviamente nel momento in cui avrete già visto Penso, mi auguro La puntata no? Perché non mi piace fare spoiler Comunque insomma a parte questo Cosa succede? Succede che ad un certo punto Leggo tantissime cose Anzi partiamo proprio da quello che ho letto sui social Non so Due settimane fa Sì più o meno era questo il periodo Andrea Nicole scrive bc.it Ha scelto ma infrange il regolamento E delude Maria De Filippi Io di fronte a questo ho detto No ragazzi non può essere Mi sono arrivate tantissime segnalazioni Tantissime cose da leggere E tutte quante Diciamo che descrivevano dettagliatamente Quello che poi abbiamo visto in tv Quindi Giannettina Furiosi Lei quindi Andrea Nicole e Ciprian Che si sono presi Pensate un po' anche degli strumenti Sì cioè veramente successo di tutte Oggi andremo a vedere proprio nel dettaglio Cosa è successo Perché appunto è andata in onda la puntata Ma andiamo avanti Perché cosa succede? Io ad un certo punto Ho iniziato a leggere anche Vabbè Andrea Nicole e Ciprian Sono stati cacciati dallo studio Maria De Filippi Furiosa Blah 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 I siti di gossip si divertono a scrivere Cacciato ha cacciato una persona Maria De Filippi Furiosa Ecco ragazzi no perché Lo vedremo poi Maria De Filippi ha avuto una reazione Ma non è stata di certo L'ira mariana L'ira funesta mariana No ragazzi Andiamo però avanti Perché sempre la nostra amica invece Dejanira Marzano La nostra amica Gossippara Ha riportato un messaggio Intanto scrive Nicole e Ciprian E niente di meno Già solo per essere riconoscenti a Maria e la redazione al pubblico Non si potevano contenere Spero che questa notizia non sia vera E il messaggio che è stato riportato da Dejanira Marzano Diceva sostanzialmente Non sono stati cacciati Anzi sono entrati in studio Hanno raccontato la loro versione dei fatti E poi se ne sono andati insieme Punto e basta Niente di più Niente di meno E adesso entriamo invece Nel vivo di quello che è stato il racconto Perché questa scelta Tra molte virgolette Abbastanza anomala Di Andrea Nicole Inizia proprio con il parterre Ci sono tre sedie Una da un lato E due dall'altra Solitamente Dove ce n'è soltanto una Si mette la tronista E dall'altra parte I suoi due corteggiatori Ecco Questa cosa non succede Al posto della tronista Quindi nella sedia singola Si siede proprio lui Alessandro Che ovviamente era uno dei Corteggiatori di Andrea Nicole L'altro ovviamente Ciprian Ecco Ad un certo punto Alessandro si siede lì Non capisce cosa stia letteralmente Succedendo E vede entrare insieme Ciprian e Andrea Nicole Che si siedono sulle altre Due sedie davanti a lui Bene Di fronte a questo terzetto Inizia il racconto Andrea Nicole Racconta A cuore aperto Quello che è successo Nelle ultime 24 ore Forse nelle ultime 12 ore Non lo so Fatto sta Che la sera prima Ciprian Va da lei Va da lei Le suona Quindi va sotto Casa sua E lei apre Apre pensando che Con Ciprian Ci fosse anche La redazione La redazione In quel frangente Non era con Ciprian Perché infatti Ciprian si è presentato Lì da solo Gli apre E passano Una notte insieme Non lo dico io Non lo dice La gente a caso L'ha detto Proprio lei Andrea Nicole Che ha raccontato Per filo e per segno Le dinamiche Di quello che è successo Perché Sì Andrea Nicole E Ciprian Hanno passato Una notte Insieme Guardate Dopo un po' Che sono a casa Mi suona il citofono E al citofono C'era Ciprian Ciprian entra E parliamo Di quello che è successo In puntata E passiamo la notte Insieme E a questo proposito Voglio leggervi Giusto qualche tweet Che ho letto Su Twitter Che mi ha fatto Molto sorridere Andrea Nicole Con Ciprian In puntata Tu ti stai comportando Male Con me Sempre Andrea Nicole Con Ciprian Dopo la puntata E c'è L'immagine Di sesso Che in realtà È una città Ma che Effettivamente È quello che Potrebbe essere successo Non lo sappiamo Perché non eravamo Ovviamente Lì con Andrea Nicole E Ciprian Però Insomma Hanno passato Una notte insieme Penso proprio Che qualcosa Sarà successo Un bacio ci sarà stato Non credete anche voi Ma andiamo avanti Perché Non so se vi ricordate Ma nelle ultime Puntate Andrea Nicole Con Ciprian E con Alessandro Aveva fatto L'albero di Natale Ok In casa sua Proprio E Siamo di fronte Ad un tweet Che mi ha fatto Veramente morire Da ridere Perché scrivono L'albero di Alessandro Mentre guardava Andrea Nicole E Ciprian Che Ecco Vedete che Tipo c'è La scimmietta Che fa Cosa Ma stai scherzando Infatti Qualcun altro Scrive Ma quindi Ciprian E Andrea Nicole Hanno Trommato Con l'albero Di Alessandro In casa Cinema Lasciamo adesso Un attimo Da parte Il cinema E tutto questo Trash Dei meme Su Twitter E Andiamo avanti Con il nostro Racconto Andrea Nicole Dice che Sì Lei e Ciprian Hanno passato Una notte Insieme Ed Alessandro Ovviamente Sbotta Nel senso Che Rimane Senza parole Ed è quello Che è successo Praticamente A tutti noi A tutto il popolo Del web A tutte le persone Che hanno guardato Uomini e donne E la scelta Di La scelta Sempre tra virgolette Di Andrea Nicole E Ciprian Ecco Diciamo Che Alessandro È rimasto Molto Deluso Dal comportamento Di Andrea Nicole E da questa Non trasparenza Per lui Non solo Ha preso in giro Uno dei corteggiatori Che erano lì per lei Ma ha preso in giro Il pubblico Tutto il programma E chi ci lavora E questa è una cosa Che sentiamo sempre Più spesso A uomini e donne Purtroppo ci sono state In questi anni Tante persone Che hanno preso in giro Il programma O che comunque Hanno Insomma Non hanno rispettato Le regole No Lo abbiamo visto Qualche tempo fa Con Gioele Parleremo anche di lui Più avanti nel video Ma Una cosa è certa Alessandro È rimasto Molto Molto Deluso E proprio come Alessandro Anche delle altre persone Presenti lì in studio Si sono sentite prese in giro E sto parlando proprio Di Gianni Sperti Che in questi mesi Lo abbiamo visto No È sempre stato Dalla parte di Andrea Nicole L'ha sempre Difesa Elogiata L'ha sempre Riempita di complimenti Ecco In questa puntata Tutto cambia Nel momento in cui scopre Che Andrea Nicole Ha infranto il regolamento Del programma In cui scopre Insomma Tutto quello che è successo Gianni non ci sta Non ci sta E sbotta Sbotta nel senso Che dice tutto quello Che pensa E Beh Tra le varie cose Che ha detto Insomma Ha parlato di Disonestà Di persone Non per bene E come vi dicevo Anche all'inizio del video Ha definito Ciprian E Andrea Nicole Degli S**ti Guardate Due disonesti siete Due disonesti siete Complimenti Andrea Nicole Sei una disonesta Tu sei l'esempio Di una persona Non per bene Siete due S**ti Questo siete E per incarare la dose Su questa nuova coppia Che si è formata È stata anche Tina Cipollari Che Se in questi mesi Non si era espressa Più di tanto Sulla tronista Andrea Nicole Beh Coglie l'occasione In questa puntata Di dire tutto quello Che ha sempre pensato Beh Lei Non ha mai Potuto sopportare Almeno a detta sua Andrea Nicole Non le è mai piaciuta Sin dall'inizio E Andiamo a vedere Ascoltiamo Quello Che ha detto Tina E insomma Quello che è stato Anche un po' La reazione del pubblico Lì in sala Guardate A me tu non sei mai piaciuta Che io tutte le volte Che era il momento Il tuo momento Io uscivo Perché non ti sopportavo E non mi sono sbagliata Sei fasulla Fasulla Devo ammettere Che quelli che sono stati I commenti Le parole Di Gianni e Tina Hanno letteralmente Diviso il pubblico Tante persone Li hanno criticati Sui social Anzi Forse a questo proposito Voglio proprio Leggervi Alcune vostre risposte Perché io Nelle stories di Instagram Ho messo Insomma Ho messo un post Un post Che Faceva vedere Appunto Questa scelta Di Andrea Nicole Con Cipri E ho scritto Poteva essere Un bel percorso Invece è stata Una delusione Perché quando si parla Almeno dal mio Personalissimo Punto di vista Quando si parla Di mancanze di rispetto Nei confronti del programma Gente che non rispetta Le regole Comunque Un po' ci rimani male Perché tutti vorremmo Vedere Una scelta Con i petali Insomma Vorremmo comunque Vedere La fine di un percorso Fatto bene Ecco Non è stato questo Il caso Nonostante Questi ragazzi Abbiano comunque Subito detto Il giorno dopo Quello che era successo Quindi non è che hanno finto E poi lo abbiamo scoperto Come invece è successo Tanto e tanto tempo fa Ma lasciamo perdere Lasciamo perdere Perché io Proprio qui Ho detto a voi i commenti Cioè ditemi che ne pensate No? E voglio Leggervi giusto Qualche commento Che riguarda proprio Le parole Che sono state utilizzate Nei confronti Di Andrea Nicole E di Ciprian E tante persone Hanno considerato Questo accanimento Nei loro confronti Come esagerato Infatti Allora Qualcuno dice Che è successo di peggio E l'hanno passata liscia Con lei Si sono proprio Accaniti Da morire Onestamente A me lei Non è mai piaciuta Beh ci sono Parelli ovviamente Contrastanti Io sono delusa Io sono basita La penso come Gianni Ma c'è anche Chi dice Ma anche meno Ci sta gente lì Che fa schifo Da sempre E loro All'agonia Per dodici ore Oppure Un po' esagerata La reazione di Gianni Tutto un po' troppo Esagerato Anche meno Hanno sbagliato Ma non hanno ucciso Nessuno Sinceramente Ho trovato Gianni Fuori luogo Le parole hanno un peso E lui è stato Di un cattivo Allucinante Per di più Gianni Veramente Volgare Eccessivo E fuori controllo Avranno anche sbagliato Ma almeno l'errore È stato fatto Per amore E non per volontà Di nuocere Insomma Al programma Credo Tina E Gianni Hanno esagerato Insomma Capite che Tante persone Qua sui social Hanno detto Avete esagerato Cioè Ok Questi ragazzi Hanno sbagliato Ma Questa reazione È eccessiva Io onestamente Penso che Può essere eccessiva Per chi non lavora Quel programma Ma Per chi è lì Lavora Sta sempre a contatto Con questi ragazzi Cerca comunque Di farli vedere Di non far mancare nulla A queste persone Eccetera eccetera Le tratta veramente Come persone Di famiglia Vedere poi Che viene a mancare Una fiducia Una trasparenza Un'onestà Di fondo Sicuramente Non è bello Poi ragazzi Siamo di fronte Anche ad un'altra Tipologia di reazione Perché ad un certo punto Proprio Gianni Dopo essersi sfogato Ha chiesto Ma Maria Cioè Tu che ne pensi Comunque Vedo che sei Un po' delusa O sbaglio Ecco Di fronte a questa Domanda Maria De Filippi Rimane un po' Titubante E poi Dà una risposta Che secondo me Fa molto riflettere Guardate Maria Maria Ti vedo silenziosa Però che ci sei rimasta male Pure tu Queste cose possono capitare Poi anche Non dire alla redazione Lo caccio Ma dire alla redazione Lo tengo La mia scelta Di mettere lei sul trono Perché ho fatto E ti rifarei tutta la vita Io sono molto felice Di aver ascoltato Queste parole Da parte di Maria Perché È vero Una persona Ha sbagliato E tutti pensavamo Che insomma Ci potesse essere Un finale diverso No Però da qui A dire che Non si è meritata Andrea Nicole Questa opportunità Che non si meritava Questo trono Non credo Sinceramente Anche perché Ragazzi Siamo Cioè Dobbiamo essere sinceri No In passato Tante persone Hanno sbagliato E hanno sbagliato Veramente tanto Ma tanto ragazzi Cioè hanno preso in giro Chiunque Per mesi e mesi No Lo ha detto anche La stessa Maria Non possiamo Secondo me Mettere all'agonia Andrea Nicole Per aver passato 12 ore Con una persona E averlo subito Detto alla redazione Poi in puntata Sicuramente Le modalità Non sono state belle Sicuramente Il fatto Di mancare di rispetto Anche all'altro corteggiatore Di mancare di rispetto A quelle che sono Le dinamiche Del programma Non è stato Proprio Insomma Come dire Una cosa bella Da fare Ecco No Non mi è piaciuto Onestamente Anche L'atteggiamento Che ha avuto Ciprian Perché adesso Parliamo solo Di Andrea Nicole Che ha fatto Discutere Che ha deluso Blah 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 Ma ragazzi Le cose si fanno In due E Mi sembra Proprio Maria De Filippi Ha detto una cosa Molto interessante Cioè Che lei Non si espone Per quanto riguarda Quella che sarà Che potrà essere La relazione Tra Andrea Nicole E Ciprian Ma che sicuramente Non ci crede molto Non crede forse molto A quelli che sono I sentimenti Di Ciprian No Perché se una persona È veramente innamorata Ti rispetta Ciò che lui invece Ha fatto È stato Non rispettare Andrea Nicole Perché intrufolarsi In casa sua Ok Lei l'ha fatto entrare Va bene Però Metterla anche In una situazione Del genere Quindi dicendole Senti scegli Mi senti Stiamo insieme Senti di qua Senti di là Ha fatto venire Forse un po' meno Quello che è L'effettivo Fine del programma No Cioè ci sono Delle dinamiche Si devono rispettare Inutile che uno Si piazza in casa Dell'altro Per farsi scegliere Per Insomma Passare la notte Insieme Quello che però Non tace È un ex Tronista Che vedendo Tutto questo Vedendo Insomma Questo siparietto Della scelta Di Andrea Nicole Delle persone Quindi Gianni Tina E compagnia bella Che hanno criticato Andrea Nicole Beh Una nostra vecchia Conoscenza E cioè Gioele Che anche lui Insomma Era stato Allontanato dal programma Perché non aveva rispettato Né lui Né Ilaria Forse Le regole Ecco Diciamo che lui Nelle sue stories Ha pubblicato Un video Molto divertente Lui Ti mangia le patatine Lì Comodo Comodo Sul divano Guarda La scelta Di Andrea Nicole E scrive Deja vu Insomma Una cosa Già vista Perché proprio Forse Come è successo A lui Ha visto che Prima Sei latronista Migliore del mondo E poi invece Perché succede una cosa Ti pigliano a parole Questo penso sia più o meno Quello che abbia voluto dire Gioele Io sinceramente credo che Quando succede una cosa C'è subito una conseguenza E si sa ragazzi Nel momento in cui Sbagli una volta Lì A uomini e donne Ci sta anche Che le persone Mettano in dubbio Quello che è stato finora Quindi Che ne sappiamo noi Che magari Andrea Nicole E Ciprian Non si sono visti Un'altra volta Non lo possiamo sapere Ragazzi Cioè Io mi auguro di no E anzi spero di no E credo di no Perché Comunque Avrebbero potuto Nascondere tutto quanto Far finta di fare una scelta Così all'improvviso Scegliersi E andare via Uscire dal programma Felici e contenti Senza Raccontare nulla Quindi Alla fine Tirando un po' le somme Io sono anche contento Che abbiano raccontato Effettivamente Ciò che è successo Perché Bisogna essere sinceri Sono stati Quanto meno Trasparenti A raccontarlo Il giorno dopo E insomma A dire Quello che è successo Appunto Detto questo Comunque adesso Fatemi sapere voi Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Perché Insomma ragazzi Che vedevo di Sicuramente è stata una scelta Molto deludente A livello televisivo Mi auguro Che comunque Stiano insieme Che stiano bene Insieme Perché altrimenti Forse Veramente Quello che ha detto Tina Anche tipo Da Natale a Santo Stefano Potrebbe realizzarsi Non lo so A me piaceva molto Andrea Nicole Mi spiace Veramente tanto Che il suo trono Che comunque Poteva essere anche A livello simbolico Molto importante Per la comunità LGBTQ plus Per anche tutte Quelle persone Che magari Hanno fatto Una transizione Che hanno difficoltà E che hanno difficoltà A trovare qualcuno Poteva essere Un racconto Un percorso Sicuramente Bello Da vivere Fino in fondo In maniera Un pochino più corretta E trasparente Però insomma Voglio dire Abbiamo visto Veramente di peggio Uomini e E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi Ci abbiamo provato Ciao Ciao